In questo video tutorial vedremo come coordinare insieme immagini e commento audio. Ho scaricato un programma radiofonico interessante per i miei alunni. Voglio abbinare alle parole del commentatore delle immagini pertinenti. Le immagini dovranno essere coordinate con le durate del commento. Utilizzeremo il programma Photo Story 3 per Windows. Avvia nuova sequenza. Importa immagini. Seleziono dal mio computer le immagini di cui avrò bisogno per creare il filmato. Posso spostare un'immagine trascinandola con il mouse a qualunque punto nella sequenza. Avanti. Il programma mi chiede continuare senza rimuovere i bordi neri. Sì. Avanti. Ancora avanti. Fino allo step. Seleziona file musicale. Selezioniamo il file per vista mp3. Ecco il formato del commento audio ovviamente deve essere in mp3. Apri. Come vedete questa barra marroncino si dispone sopra le immagini. Noi dobbiamo dare a ciascuna immagine una durata in base al commento. Il programma di default mi dà delle durate standard che noi però possiamo modificare. Clicco sul pulsante indietro. Vado a personalizza movimento. Posso specificare la posizione iniziale e finale dell'immagine attraverso questi quadrati. Ci sono delle maniglie per ridimensionarli e per disporli. Poi decido il numero di secondi per la visualizzazione dell'immagine. Per esempio 10 secondi. Posso osservare l'anteprima cliccando sul pulsante anteprima. e in questo modo decidere se la durata è a 10 secondi. Se questa durata è corretta salva. Se invece non è corretta posso modificarla. In qualunque momento posso tornare sulle immagini per modificarne la durata e per specificare la posizione iniziale o finale dell'inquadratura. Quindi per ottenere un effetto di movimento. Salva eventualmente. E infine chiudi. Bene, ora che abbiamo dato il movimento a ciascuna immagine vado avanti e salvo il mio progetto come filmato. Avanti ancora. Scelgo la posizione cliccando su sfoglia. Ad esempio sul desktop lo chiamo prova. salva. Posso salvare anche il progetto. Il progetto mi permette di tornare su questa sequenza di immagini e modificarlo ulteriormente. Aggiungere, togliere immagini o modificare la loro durata. Quindi salva progetto. Scelgo desktop. Anche qui lo chiamo prova. Salva. Il programma salva il progetto e potrò aprire questo progetto da qualunque computer purché abbia installato PhotoStory 3. Il filmato invece lo posso aprire in qualunque computer anche se non ha il programma PhotoStory 3 perché si tratta di un filmato con un formato riconosciuto da tutti i sistemi operativi Windows. Bene, questo è tutto. Grazie. Grazie.